Nei meccanismi di questa squadra col B-Ross dentro l'anticipo di Ellis che produce un recupero per Treviso palla Noluk di Banks per la schiacciata di Fagian, altri due tiene vivo il possesso, sale a bloccare Scambiuzzi, ancora Zanelli per Sorocas un buon tiro dalla media di Paulius Sorocas che chiude qua il primo quarto primi due punti per il giovane Varesino, Urgo Invernizzi, ancora la penetrazione lo scarico per Ellis che va su a una mano a inchiodare Invernizzi dentro, sbagliato il passaggio per Ellis, recupera la rossa, 3 contro 2 Varese Brown stoppato da Invernizzi, è buona questa stoppata Zanelli prova a ricevere lontano dalla palla Banks che ora viene escluso dal gioco Invernizzi però, si carica si aggrappa a lui Treviso lo scarico su Sorocas, penetrazione centrale, alza la parabola e ferma l'emorragia Paulius è Sorocas, un'altra meno 6 ora Treviso che ci crede giustamente, Rossan lascia lì il difensore stoppata, Dino Egbu e poi il contropiede di Treviso, Banks in contropiede Grazie 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 Grazie.